Sono il traffico veicolare, in particolare lungo l'asse autostradale della 2 e sulla Sila e le sorgenti di riscaldamento nelle aree urbane con più di 15.000 abitanti, i principali settori nei quali gli inquinamenti atmosferici sono più presenti in Calabria. E' una delle conclusioni a cui giunge il report sugli inquinamenti atmosferici relativo al biennio 2015-2016 che l'ARPACAL, ovvero l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Calabria, ha trasmesso alla regione come contributo specialistico per l'osservatorio regionale. Il report è stato realizzato dai tecnici Emilio Centorrino e Pasquale Crea, già referenti responsabili delle procedure di reporting europeo per la qualità dell'aria verso la regione Calabria. I risultati ottenuti dall'elaborazione dei dati provenienti dalle stazioni di monitoraggio e detto nel report, hanno evidenziato, grazie alla presenza in diverse aree urbane di stazioni di fondo e di traffico, come l'apporto del traffico veicolare all'inquinamento atmosferico sia chiaramente riscontrabile nei dati osservati. Questi ultimi hanno evidenziato anche come, in zone tra loro simili, si registrino per gli inquinamenti concentrazioni equivalenti, come conseguenza di una corretta strutturazione della rete di monitoraggio. Nel complesso, per tutti i comuni di interesse, non sono emersi state di criticità. Il documento trasmesso alla regione è stato validato dal direttore scientifico, il dottor Francesco Nicolace. Anche con queste attività, ha dichiarato il commissario Arpacal, Maria Francesca Gatto, l'Agenzia opera per la tutela dell'ambiente e della salute pubblica in stretta sinergia con la regione Calabria, allineandosi con l'utilizzo di tecnologie avanzate acquisite, grazie al POR FESR 2007-2013, alle attività più complesse condotte dalle altre arpa italiane nel campo della qualità dell'aria.